Ammettiamolo, in poco meno di un anno il mercato è stato praticamente sommerso da decine di tapirulan da case, che si tratti di prodotti da utilizzare per correre oppure solo per camminare, tutti questi dispositivi sono nuti da un unico filo conduttore, cioè la possibilità di essere ripiegati per ridurre al minimo l'ingombro quando non li si usa. E se c'è un'azienda che in questo settore si è differenziata un po' dagli altri, sicuramente Kingsmith, che è un brand nato sotto l'ala protettiva di Xiaomi, che nel tempo ha prodotto tanti tapirulan delle più diverse tipologie, veramente di ottima qualità, e questa qualità la si ritrova anche nel Walking Pad X21, l'ultimo nato dal brand, un tapirulan che si contraddistingue da tutti gli altri prodotti sia dell'azienda che del mercato per alcune peculiarità, come per esempio un motore in grado di supportare 110 kg e arrivare a 12 km orari, quindi potete proprio correre, oppure un supporto verticale, una struttura nella quale non solo è inserito un display LCD e un controller rotondo che si può girare per modificare la velocità, ma è anche presente una zona per l'NFC. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando volete correre avvicinate il telefono al dispositivo e automaticamente si avvierà l'applicazione, insomma, è un dispositivo molto interessante, è un dispositivo che so che voi volete perché l'estate è alle porte e volete togliere la panza come me. Io in casa penso di averne quattro e non ne uso manco uno perché sono super pigro. E quindi ragazzi non ci resta che vederlo nel dettaglio. Grande 142 x 72 x 102 cm da aperto e 71 x 95,5 x 22,6 da chiuso, il Walking Pad X21 è tra i tapirola impieghevoli più compatti della sua categoria. È realizzato totalmente in metallo, ha degli inserti in plastica e se quando in funzione è in grado di garantire un ottimo spazio di movimento nella pedana è da chiuso che veramente si contraddistingue perché con i suoi 22 cm di spessore potrebbe anche essere messo sotto a un letto oppure addirittura dietro ad una porta. Tutta la barra di sostegno è rivestita in ABS ma a differenza degli altri modelli anche della stessa Kingsmith perché per esempio l'abbiamo visto nell'R1H questa barra di sostegno integrata in questo modello non permette la regolazione in altezza proprio di tutta la struttura e non ha neanche le due maniglie laterali che abbiamo visto proprio nell'R1H ed è forse questo uno dei pochissimi limiti di questo dispositivo che potrebbe essere un pochino scomodo non solo per le persone alte ma anche per le persone che magari vogliono andare a 12 km orari e quando si va a questa velocità avere due sostegni laterali sapete le maniglie che stanno a destra a sinistra potrebbe essere una cosa comoda. E probabilmente il motivo del fatto che non si possa regolare in altezza è dovuto proprio alla presenza di tutta questa tecnologia presente in questa struttura che quindi richiede dei cavi perché al centro proprio della barra è presente un display LCD con il quale si potranno tenere sotto controllo tutti i dati relativi alla propria sessione di allenamento al centro poi c'è inoltre come vi dicevo questa manopola circolare con la quale si potrà dare via la camminata o la corsa oppure regolarne la velocità proprio girandola ed è questa una delle caratteristiche che più mi sono piaciuto del working pad X21 perché nonostante si tratti di un prodotto che può essere gestito dall'applicazione qualora si voglia essere totalmente liberi da questi dispositivi si potrà controllare tutto in maniera diretta e veloce proprio dalla console del tapirulano. Al centro della struttura poi è presente la tipica clip con la corda di sicurezza e nella zona inferiore sono presenti due ruote con le quali si potrà spostare il tapirulano molto più semplicemente. Il meccanismo di chiusura però è ottimo è un meccanismo di chiusura a tre step e lo rende veramente molto compatto e anche meno alto rispetto ad altri prodotti della stessa Kingsmith. X21 poi è dotato di un motore da 918 watt in grado di garantire un carico massimo di 110 kg e una velocità massima di 12 km orari e quindi diciamo 2 km più veloce della media perché in genere questi prodotti si fermano intorno ai 10 km orari tutta la pedana è composta in quattro strati, quattro strati che hanno lo scopo di ammortizzare quando si curve e stressare meno le articolazioni del ginocchio soprattutto quando si va velocemente devo dire però che questi quattro strati tutti i rivestimenti in gomma che sono anche presenti sui piedini lo rendono piuttosto silenzioso anche il motore è silenzioso considerando la potenza nei nostri test siamo arrivati a circa 75-76 decibel ed è un valore che effettivamente è un po' più basso rispetto alla media di questi prodotti che in genere superano gli 80 decibel quando si acquisti si utilizza un prodotto del genere lo so che in questo caso potrebbe sembrarvi una mamma con le manine corte che non vuole spendere soldi però in un periodo del genere dove l'energia costa tanto è sempre importante generalmente che si tratta di un prodotto che ha un motore da 900 e dispari watt il che vuol dire che siamo vicini al kilowatt ed è una cosa che va considerata anche perché adesso la corrente costa un bel po' vero è però che sicuramente tutta la spesa che potrà portarvi questo è sicuramente inferiore rispetto a quella che avreste se andaste in palestra però chiaramente questa è un'altra cosa detto questo però devo dire che c'è ben poco da criticare a questo walking pad di x21 perché ormai siamo abituati a questa qualità dei prodotti dell'azienda no kingsmith ci ha abituati con prodotti veramente di ottima qualità con un buon rapporto qualità prezzo e devo dire che tutta questa qualità si trova anche nell'x21 che tra l'altro riesce a gestire vi dicevo una velocità che varia dagli 0,5 km orari ai 12 che può essere regolata ogni 0,5 quindi veramente molto precisa e proprio come tutti gli altri prodotti di questa categoria anche questo x21 non ha la regolazione dell'inclinazione lo so che per molti questa potrebbe sembrare una limitazione in effetti questa è l'unica limitazione l'unica differenza che c'è tra questi prodotti che si possono piegare e riporre e i tapirulan diciamo più grandi che però ingombrano veramente tanto spazio ed è un compromesso che come vi dico sempre bisogna accettare bisogna accettare perché altrimenti tutto il meccanismo di chiusura del tapirulan potrebbe non funzionare aumentando la pendenza probabilmente tutti gli incastri si aprirebbero magari no però sono convinto che prima o poi qualche azienda questa cosa la risolverà perché effettivamente adesso si arriva fino a 12 km trovare su questi tapirulan quindi diciamo come prestazioni siamo quasi al pari di quelli tradizionali che si trovano in palestra e poter aumentare o diminuire l'inclinazione per particolari tipologie di allenamento è una cosa importante per le persone nessuna novità poi per quanto riguarda l'applicazione di gestione sappiamo tutti i prodotti dell'azienda vengono gestiti dall'applicazione ks fit è un'app disponibile sia per android che per ios la novità sta che in questo prodotto avendo una zona nfc avvicinando il telefono un'applicazione si avvia automaticamente come per esempio si avvia automaticamente l'installazione qualora non fosse installata sul dispositivo la connessione poi è assolutamente immediata ed è sempre la stessa applicazione che abbiamo conosciuto con gli altri tapirulan di kingsmith è un'applicazione con la quale si potrà gestire tutto il proprio allenamento si potranno vedere tutte le statistiche si potrà decidere la velocità l'andatura il tempo la cosa bella di questa applicazione però è che si integra perfettamente con google fit e salute di apple il che vuol dire che una volta che voi avrete fatto il vostro allenamento avrete tutti i dati relative alle calorie ai chilometri percorsi eccetera ebbene li ritroverete direttamente nelle applicazioni di gestione della salute sia di android che di ios il prezzo di vendita ufficiale del working pad x 21 è di 726 euro e 92 ma tramite il coupon che trovate in descrizione con il link lo potreste acquistare a 681 euro e 49 quindi effettivamente si tratta di un prezzo leggermente più alto della media alla quale ci ha abituato l'azienda però devo dire è un prezzo giustificato non solo dall'ottimo meccanismo di chiusura che è tra i più complessi e funzionali mai fatti da kingsmith ma anche dal fatto che c'è un ottimo display sulla barra una connettività velocissima con lo smartphone tramite l'nfc e poi c'ha questa velocità massima di 12 chilometri orari è poi molto semplice da gestire anche in totale autonomia senza lo smartphone ha un supporto per il tablet come ormai tutti i dispositivi di questa categoria l'unica pecca anzi le uniche due pecche di questo prodotto vabbè la prima sta nel fatto che non ha l'inclinazione variabile ma questo è un compromesso da accettare con questi prodotti la seconda però è come vi dicevo prima mi sarebbe piaciuto vedere che quelli di kingsmith avessero pensato un metodo per integrare le due maniglie laterali perché a queste velocità possono essere importanti e soprattutto un metodo per regolare l'altezza di tutta la struttura di appoggio dove è presente il display perché ripeto per le persone un po più alte per me non c'è problema perché ne che sono altissima però per le persone che superano il metro 80 potrebbe diventare un pochino scomodo raggiungere o appoggiarsi anche sulla struttura e questo è quanto ragazzi questo è il kingsmith walking pad x 21 fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti mi raccomando iscrivetevi a mi provo su gizzi il nostro gruppo telegram nel quale condividiamo tutti i backstage le nostre recensioni se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella io sono sempre il solito dare caliendo e ci vediamo al prossimo video su gizzi